Porco Giuda! Un'opportuna in me! Ciao tutti giudassoni! Io sono Robert Oggi ragazzi siamo in un momento particolare Oggi andremo a fare la modalità TCT singolo Ce la faremo a vincere Per chi non sa Per chi non sa cosa si deve fare Questa modalità veramente E' creative C'è uno vi E' quella creative Ma prima di cominciare Iscrivetevi al canale Accentate la campanellina E direi che posso iniziare Ok ragazzi qui c'è qua Sì ma non è perché L'ho già sparato Ovviamente Non so se deve fare il tariff Per tempo Non so se deve fare la campanella Non so se deve fare la campanella Non so se deve fare la campanella Porco giuda Un'opportuna in me Un'opportuna in me Oh se Tino vuole sclerare oggi eh Quindi lasciami in pace L'ho già sparato Non so se deve fare la campanella Non so se deve fare la campanella Ma come si deve fare la campanella Non so se deve fare la campanella leave Il toccato Voi Il toccato Grazie a tutti. Grazie Sì 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 Infatti questo è proprio pulo competitivo Sì 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 No c'è più passi Vabbai a casa Grazie a tutti. 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 No. No.